Buonasera, siamo all'ultima delle conferenze prima delle vacanze pasquali e contrariamente a quanto era scritto nella brochurina, Monsignor Claudio Guggerotti non è più nunzio apostolico in Bielorussia ma dal 13 novembre mi pare è stato nominato nunzio in Ucraina, è stato precedentemente nunzio apostolico in Bielorussia dal 2011 e prima ancora dal 2001 nunzio apostolico in Georgia, Armenia e Azerbaijan. Monsignor Guggerotti che ringrazio per aver accettato devo dire molto amabilmente, benché la telefonata fosse appunto nella sua sede, fin dall'inizio è stato accoglientissimo per la nostra proposta, ma io Monsignor Guggerotti lo conobbi alcuni anni fa quando qui ci fu il centenario nelle suore armene e c'era allora rettore il padre Pittau e ci fu una commemorazione nell'atrio della Gregoriana, ci fu anche una pianista armena e Monsignor Guggerotti tenne allora una conferenza e credo che il popolo armeno che rappresentato qui anche dal rettore poi ascolteremo alla fine della conferenza proprio come con conclusione un canto che i seminaristi del collegio eseguiranno, credo che il legame con l'Armenia sia molto forte, perché Monsignor Guggerotti vi dico alcune cose che per presentarlo comincio da alcuni meriti accademici, ha conseguito la laurea in lingua e letterature orientali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, la licenza di liturgia al pontificio Ateneo Sant'Anselmo, abbiamo qui il rettore del pontificio Ateneo Sant'Anselmo, il dottorato in scienze ecclesiastiche orientali presso il pontificio istituto orientale e ha svolto anche attività didattica presso l'Università di Venezia, Padova, Roma, qui al pontificio Università Gregoriana, nel pontificio istituto biblico orientale, scusi, poi ha iniziato il suo servizio alla Santa Sede presso la congregazione per le chiese orientali come sottosegretario, l'allora prefetto era il cardinale Achille Silvestrini, è dato consultore dell'ufficio per le celebrazioni liturgiche pontifice, salutiamo per sua eccellenza Monsignor Marini che è stato anche lui prefetto delle cerimonie liturgiche, prima dell'attuale Monsignor Marini c'è un caso di omonimia, un Marini succede all'altro e poi è autore di parecchi testi, io qui ne ho solamente portato uno, Caucaso ed intorni, viaggi in una cristianità di frontiera. A questo proposito all'ingresso abbiamo messo un piccolo banchetto per chi volesse interessarsi alla letteratura sulle chiese d'Oriente e chi volesse approfondire questo capitolo, ahimè doloroso in questi momenti, noi vediamo, ne parlavo prima con il Rettore, la sparizione forse nell'Oriente, nei luoghi in cui il cristianesimo si è impiantato la sparizione delle grandi comunità che hanno dato vita alle chiese cristiane e l'Occidente credo che qui dovrebbe fare un grosso mea culpa perché non ne è innocente di quanto sta avvenendo, assiste diciamo silenzioso, forse deglutendo i propri sensi di colpa. Per questa sera vorremmo allora ascoltare, su eccellenza Monsignor Guggerotti, il tema che gli abbiamo assegnato è all'interno di una serie di conferenze, di un ciclo di conferenze che intenderebbe riflettere sull'unità fra i cristiani, una unità in cammino, quindi che ha già tante pagine di fatto al suo attivo e che spesso invece continua ancora a sottolineare gli aspetti che ci differenziano anche culturalmente, che poi potrebbero essere forse l'occasione per una rilettura più profonda di quello che invece ciascuno può apportare alla vita dell'altro. C'è una vita però che le chiese già hanno come realtà comune, ecco, e però questo ha comportato anche prezzi altissimi, per cui su questo però lasciamo la parola a Monsignor Guggerotti che ancora ringrazio per la sua presenza. Grazie padre per questo invito, grazie a tutti voi. Mi sento un po' a disagio a parlare di un tema di cui mi trovo a studiare l'epilogo in altre terre, visto che ormai manco dal Medio Oriente, dai tempi della congregazione orientale, a meno che non si consideri in Medio Oriente il Caucaso, ma lì è un problema perché i nostri amici armeni qui hanno una forte diaspora naturalmente nel Medio Oriente e una grossa comunità nella Repubblica armena, quindi con due identità geografiche apparentemente diverse, visto che la geografia è sostanzialmente una linea tracciata su un foglio di carta, per cui è difficile dire che cosa appartenga ad un ambito e che cosa ad un altro. Però naturalmente i legami con il mondo del Medio Oriente e in generale con i cristiani d'Oriente rimane anche dove sono adesso in Ucraina, c'è una grossa chiesa orientale, anzi la maggioranza schiacciante dei cattolici appartiene alla chiesa greco-cattolica, dove peraltro i problemi sono differenziati soprattutto per le radici culturali, non tanto per gli effetti devo dire. Mi è stata chiesta una piccola riflessione sul tema Medio Oriente e sangue cristiano. Vorrei cominciare da un episodio che mi ha coinvolto personalmente, proprio al tempo in cui il Cardinal Silvestrini era prefetto dell'Orientale, io fui mandato in Iraq subito dopo il primo bombardamento americano, quello contro il quale si scagliò Giovanni Paolo II con molta intensità e ricordo che incontrai l'allora primo ministro Tarek Aziz. Tarek Aziz era di origine caldea, quindi di quella comunità cristiana che come diceva il padre rischia di scomparire. Era naturalmente dell'entourage di Saddam Hussein, lui si dichiavava non credente, ma mi diceva sempre con una certa dose di buonarietà, in Medio Oriente non si può essere non credenti, si può essere non praticanti, ma credente devi esserlo solo perché hai un cognome e a seconda del cognome che hai ti dicono a quale chiesa appartieni o a quale religione. E lui mi disse quando ero ragazzo membro del partito Baas, quel partito socialista laico da cui poi uscì Saddam, anche se con una evoluzione o una involuzione che la storia ha messo in evidenza, mi disse da giovane, avevo vent'anni, venne a trovarci il patriarca Sheikho. Sheikho era allora il patriarca caldeo. La sua famiglia era una famiglia in vista e il patriarca si recò appunto a visitarla. e il giovane Tarek disse io non incontro il patriarca, io non sono dei suoi. La madre gli disse tu esci da questa casa e entri soltanto quando vai a chiedergli scusa. Evidentemente si vede che lo stile di Saddam era molto diffuso, ecco non era soltanto un episodio. Perché ho citato questo fatto? Perché a seguito di questo episodio lui mi disse come vede quindi io sono condannato ad essere cristiano. Comunque mia moglie è una caldea praticante, le mie figlie vanno a scuola dalle suore. E voi occidentali ci ammazzerete tutti noi che siamo ora il governo e non capirete perché ci siamo stati, ma vedrete dopo quello che succederà. E mi ricordo questo particolare perché la parte superiore del corpo di Tarek Assis era molto apparentemente tranquilla ma le gambe erano strette in una morsa nervosa forse addirittura tragica e di lì a poco capitò quello che capitò. Quindi lungi da considerare da canonizzare Saddam Hussein capitò però questa specie di tempesta nel deserto, appunto come fu chiamata l'operazione militare, che scoperchiò un paese e tutto quello che questo paese conteneva. E da questo poi nacque una serie di episodi che si estesero alla Siria, alla Libia, all'Egitto e a molte altre aree. Cosa dire? Questo episodio mi fa un po' ripensare a questa specie di profezia che non era giustificatoria o forse intendeva esserlo ma non lo era di fatto, però aiutava a capire quanto noi avessimo capito nulla di quello che accadeva in quei luoghi. Recentemente il patriarca marronita fece proprio una dichiarazione nella quale affermò la sua riconoscenza alla Russia per l'intervento armato nella Siria, dalla quale pare si stia ritirando adesso. Sapete che nei confronti della Russia i greco-cattolici di Ucraina invece hanno un atteggiamento estremamente polemico. Passai la dichiarazione del patriarca marronita all'arcivescovo maggiore greco-cattolico e disse come chiese orientali cattoliche siete in aperta assonanza. Lui lo fece commentare ad un vescovo che mi disse come è possibile invocare come salvatore dell'Oriente il più grande derogatore alle leggi del diritto internazionale. Questo fa vedere come il problema medio orientale, il problema orientale è sempre un problema in cui la religione gioca un ruolo sostanzialmente connesso con l'identità nazionale. E questa è la caratteristica, il limite, la tragedia e la ricchezza di questa tradizione. Cercherò di delineare qualche piccolo tratto perché naturalmente sono molto più interessanti le domande poi. È chiaro che i cristiani sono nel Medio Oriente parte integrante delle popolazioni originarie. Dunque non stiamo parlando di immigrati, anche se ci furono immigrazioni, stiamo parlando delle popolazioni stesse costitutive del tessuto culturale di quelle aree. Questo perché noi siamo abituati a pensare che in tutto il mondo diventino cristiani quelli che sono convertiti dai missionari. È vero anche di questi, ma i missionari risaigono dell'epoca apostolica. Un altro elemento che pure è molto interessante osservare e che invece è molto controverso è che, a parte un piccolo gruppo di fatto pochissimo studiato, l'unico che ne ha fatto oggetto gli studi approfonditi è stato il padre Samir Khalil, che è quello dei cristiani arabi che furono contemporanei all'Islam, tutte queste chiese orientali non sono arabe. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le loro radici sono ben distinte dal mondo arabo, tutte, tutte. Se voi oggi lo dite in Libano alcuni potrebbero non essere d'accordo, visto che sostengono la piena arabicità o arabità della propria indole, che è una ragione politica subentrata al fatto di non essere marginati. Ma quelli stessi che oggi asseriscono, a differenza degli armeni che non l'hanno mai voluto accettare, di essere il simbolo della cristianità araba, la chiesa che più si distingue è quella melchita a questo riguardo, di fatto acquisisce l'identità araba in tempo tardivo e per ragioni politiche che non hanno nulla a che fare con le proprie radici. La chiesa melchita che io ho citato nasce come una chiesa pienamente siriaca, poi grecizzata, poi arabizzata. Ma quasi tutte queste chiese sono di radice siriaca, quindi di una matrice vicina a quella ebraica, sono la continuità in qualche modo dei cristiani di Antiochia e ad Antiochia si rifanno con il titolo della propria appartenenza. Antiochia dei Melchiti, Antiochia dei Maroniti, Antiochia dei Siri, eccetera. Dunque questo è un elemento molto importante per inquadrare questa nostra tematica, perché ci fu questo elemento di distinzione tra mondo arabo, che erroneamente venne poi identificato col mondo islamico, ma anche questa identificazione non è corretta storicamente, e cristianità orientale nel Medio Oriente. Il cristianesimo antico orientale era fortemente radicato nella cultura di ciascun popolo e questo lo sappiamo molto bene, i liturgisti ce lo insegnano, studiando le radici soprattutto del rito siro orientale, ritrovano in esso molti elementi sinagogali e quindi una specie di continuità col mondo ebraico, perfino nella distribuzione e nella disposizione della chiesa, che porta al centro, porta al centro, a metto che poi non siano sopravvenute le latinizzazioni che poi hanno spostato tutta la geografia anche liturgica, porta al centro il bema, che non è altro che il luogo della proclamazione della parola della sinagoga e della custodia dei rotoli e della lettura dei rotoli. E invece l'altare come luogo altro rispetto alla liturgia della parola, al quale si accede mediante una solenne liturgia di ingresso terminata la liturgia della parola. Dunque, struttura, ripeto, molto legata a quella ebraica, lingua molto legata a quella ebraica, si tratta dell'aramaico, sostanzialmente una variante dell'aramaico che secondo la tradizione sarebbe stata la lingua di Gesù, di cui loro si sentono molto fieri, di parlare ancora oggi questa lingua, che è usata in parte nella liturgia, anche se in buona parte sostituita dall'arabo, ma in alcune comunità di diaspora, sarebbe interessante ricostruire la storia di questa chiesa, ma non ci è possibile, fu una chiesa che annoverò 27 metropolie e 250 diocesi nel mondo tra la Mesopotamia e l'impero persiano, che predicò il Vangelo e convertì l'India del Sud, da lì si spostò in Cina e in Tibet come recentemente è comparso. Quindi in tempi molto precedenti alle missioni latine, le quali quando sopravvennero non furono sempre molto delicate nei confronti di questi cristianesimi antichi e sconosciuti, che decisero di ridurre all'ordine romano, ecco, perché suonavano un po' curiosi nelle loro caratteristiche. Dunque una chiesa enorme, questa chiesa sia orientale che è la stessa chiesa che oggi vediamo sparire in Medio Oriente, la più numerosa, in Iraq in particolare. Ebbene, questa chiesa poi per vicende storiche, teologiche, si identificò con la cosiddetta chiesa nestoriana e come chiesa nestoriana è molto conosciuta in occidente dai viaggiatori, tipo Marco Polo, del tempo che nel milione descrive l'incontro con queste comunità soprattutto monastiche, ma non solo, perché addirittura i nestoriani, chiamiamoli così, oggi sappiamo che non dovremmo chiamarli così, riuscivano a convertire parte dei tartari e dei mongoli. anzi, la grande lotta fu tra i nestoriani e i musulmani, i quali ebbero alla fine partita vinta sulla conversione di queste tribù mongole, di cui appunto uno dei tanti esempi è Marco Polo che ci narra le caratteristiche costitutive, ma potremmo parlare di molti altri, tutti i viaggiatori missionari, per esempio Pian del Carpine e tanti altri, che sulla via della seta andavano nel paese dei tartari con la certezza di poterli convertire al cristianesimo, ripeto, con buoni effetti all'inizio. queste chiese dunque furono profondamente legate alla propria lingua, alla propria cultura, alle proprie origini di carattere anche estetico. Chiesa Amena è un altro esempio molto classico da questo punto di vista, con vicende storiche molto complesse. La chiesa Amena, al pari della chiesa giorgiana all'inizio, furono due chiese estremamente specifiche, anche se i prestiti tra qui c'è anche un giorgiano, quindi c'è una notevole competitività tra i due popoli tradizionali, circa le proprie origini e non solo. Questa tradizione caucasica, diciamo, ebbe molti punti in comune, che si ritrovano anch'essi in una comune matrice sia siriaca che greca, ma con una sorte differentissima. Gli armeni, dopo aver accettato Calcedonia, la rigettarono e creavano la chiesa che oggi si chiama Amena apostolica, salvo poi una parte riunirsi alla chiesa cattolica, i georgiani che all'inizio rifiutavano Calcedonia, poi divennero calcedoniti e questo comportò la prima forma di uniatismo, cioè l'avvenuta dei greci che spazzavano via completamente la liturgia locale e la sostituirono con la liturgia bizantina tradotta in lingua georgiana, cosa che è a tutt'oggi. Per cui noi abbiamo l'antico Yadgar, che è il libro degli inni della tradizione georgiana pre-bizantina, che però sta solo nelle biblioteche. Ecco, per dire, in questo libro c'è anche un piccolo saggio su un autore che è quasi contemporaneo all'invenzione dell'alfabeto armeno, teorizza il legame tra cultura nazionale e cristianizzazione, affermando che laddove arriva il Vangelo si inventa un alfabeto, dove si inventa un alfabeto arriva una civiltà che fa passare il popolo dalla barbarie alla luce. Dunque, il cristianesimo diventa la fondazione o la rifondazione dell'identità culturale di ciascun popolo, il quale vi riconosce le radici stesse, questo famoso autore ha un'espressione molto significativa, da quel giorno Mosè, San Paolo e Gesù cominciavano a parlare armeno, da quando fu inventato l'alfabeto. E quindi il popolo cominciò a rendere con il proprio alfabeto quello che prima era cultura orale, segnata con alfabeti di altri popoli. Questo fenomeno di identificazione tra cultura nazionale e cristianesimo è un elemento molto importante da tenere presente quando si valutano queste chiese e il loro divenire perché è ad un tempo la loro forza e la loro tragedia. Perché dico questo? Dico questo perché esiste un'epoca nella quale la varietà delle forme espressive, liturgiche, culturali, teologiche, è considerata una ricchezza o comunque una possibilità di convivenza. Pian piano questo clima sparisce e subentra una non permeabilità di queste culture l'una all'altra, con la conclusione di rinchiudere ogni chiesa rigorosamente entro l'ambito nazionale. Se noi oggi abbiamo la festa dell'esaltazione della croce lo dobbiamo a un influsso orientale sulla liturgia romana, così come molte delle feste mariane. Abbiamo papi che erano di origine orientale ed è interessante osservare che era l'epoca delle invasioni barbariche. Quelle che noi chiamiamo le invasioni barbariche, che per molti aspetti connotavano una cultura molto simile alla nostra di oggi, portavano alla fine come conseguenza al fatto che perfino il Papa era barbaro, tra virgolette. Cioè ci fu un processo di violenza ma anche di assimilazione che però era caratteristico di quelle che erano le peculiarità della mentalità dell'impero romano, che già era molto avanzata nella integrazione dei non romani di etnia rispetto alla compagine del proprio impero. Questo problema del legame con la nazionalità e con la esclusiva nazionalità diventa poi il problema di tutte le chiese d'Oriente. Lo vediamo nel momento in cui i calendari liturgici non comprendono più santi stranieri. Cioè c'è un'epoca nella quale per i vari popoli rimangono i santi stranieri precedenti ma le canonizzazioni, se si può chiamare così, sono solo per i membri del proprio popolo. Questo è un simbolo e un emblema del fatto che le chiese si sentono mandate a servire essenzialmente la propria gente. Non chiuse teoricamente all'universalità della chiesa ma chiuse concretamente dentro l'obbligo delle proprie necessità anche perché quasi tutte queste chiese cominciavano ad avere una vita molto tribolata. In questo contesto nasce una reinterpretazione del martirio, visto che questo è un po' il nostro tema, che ha origini antichissime, lo sappiamo, non è un fenomeno orientale il martirio. Il martirio è un fenomeno universale del cristianesimo. Ma in Oriente c'è del passo al mondo monastico che in qualche modo si ravvede o meglio si riconosce come continuità del martirio. Quando il martirio è cruento non c'è più, come una delle componenti. Non bisogna esaurire il modello monastico solo a questo. Però indubbiamente c'è una volontà, quando l'imperatore non uccide più, di vivere volontariamente la segregazione, la sofferenza, la penitenza. Questo nel mondo siriaco si vede chiarissimamente, dove la penitenza diventa il martirio cercato, il martirio voluto. Questo fenomeno è molto più pervasivo di quanto possiamo immaginare, nel senso che tutte le chiese orientali furono chiese profondamente monastiche, nelle quali il monachesimo è un influsso determinante. Anche la grande chiesa imperiale di Bisanzio, che in buona parte della sua liturgia importa dal monastero di San Saban, Palestina, quello che è attualmente il rito bizantino, che è un rito invece imperiale. Mentre tutte le altre chiese non hanno nessuna imperializzazione del loro culto, rimane questa forte matrice martiriale che noi troviamo, ad esempio, in un'espressione tecnica. Quasi tutte queste chiese chiamano l'Eucaristia sacrificio, oblazione, offerta sacrificale. corbano, corbana, patarac, in almeno, non so come si dica in georgiano, antico, ecco, è la stessa cosa. Cioè, che cosa si sviluppa? Si sviluppa una tipologizzazione per cui il martirio della persona e del popolo a causa dell'oppressore violento è il primo sacramento analogico del sacrificio di Gesù Cristo Redentore. Sicché il primo sacramento della Chiesa è la partecipazione all'effusione del sangue, che fu l'oblazione di Cristo in croce, quindi l'interpretazione oblativa della croce, anche liturgica, è un fatto antichissimo che ha poco a che fare con certe idee che noi abbiamo sviluppato che sia uno sviluppo tardivo dell'Occidente e ne è testimonianza la terminologia sacrificale presa dall'ebraismo che indica la liturgia eucaristica in quasi tutte queste chiese, per non dire tutte. Allora il martirio, visto nella tipologia cristologica, è la continuazione nella vita del popolo di quello che è stato il sacrificio redentore di Cristo. Si tratta di un linguaggio archetipico molto antico, ma noi lo troviamo nella letteratura anche contemporanea in occasione, ad esempio, dei fatti della grande strage a Mena all'inizio del 1900, quando in alcuni poeti, tra l'altro poeti non dichiaratamente cristiani, anche se allievi delle scuole mechizzeriste, ma non praticanti, come Daniel Varugian, che ha le sue radici nel mondo socialista, almeno all'inizio, ma nulla di questo compare nella sua poesia, che è una poesia tipicamente religiosa, intesa in senso fortemente simbolico sacramentale, dove il martirio del popolo è interpretato come la mattanza di Cristo sulla croce, così come la natura è finalizzata al sacrificio, perché il grano che cresce nei campi è nato, secondo il poeta, per diventare il corpo di Cristo nell'Eucaristia. Così come nelle liturgie orientali, la bizantina c'era molto diffuso, le acque furono create in vista del battesimo. Dunque, la lettura sacramentale del creato è un elemento molto forte nelle liturgie e delle culture orientali e la componente martiriale ha questa radice archetipica che dura fino ai tempi odiani. In Armenia si usa ancora il sacrificio animale della Chiesa cristiana Ammenia, il cosiddetto Matar. In alcune parti della Giorgia si usa più per banchetti inuziali o momenti di gioia, che i giorgiani sono più, come devo dire, goderecci degli Ammeni come caratteristica di popolo. Ma questo legame con i simboli veterotestamentari rimane molto forte. E quindi eccoci arrivati al tema del martirio. Al tema del martirio come realizzazione esistenziale della sacramentalità della Chiesa che ha la sua fonte nella croce di Cristo. Croce che poi invece in ambito bizantino soprattutto, ma non solo, pian piano diventa da strumento di tortura la grande trono di Dio con la grande festa dell'esaltazione della croce che corrisponde a eventi storici di apparizioni, il ritorno della reliquia della croce dopo la conquista persiana, eccetera. Sta di fatto la croce diventa la croce gemmata, diventa la croce gloriosa, diventa la croce asse dell'universo. San Gregorio di Narec, recentemente proclamato dottore della Chiesa, ha proprio un testo molto interessante su questo tema, ed è il panegirico alla croce, nella quale la croce risulta come l'asse portante che regge il cosmo intero. dunque questa la visione tradizionale antica del martirio in rapporto alla simbolica originaria nazionale e teologica delle Chiese d'Oriente. Naturalmente non si deve escludere il fatto che nella stessa Chiesa d'Oriente ci siano omicidi tra cristiani. In questo caso il mondo slavo, ad esempio, assimila al Cristo crocifisso la vittima giovane e innocente uccisa ingiustamente dall'usurpatore. Allora quello che era il martirio inflitto al popolo da un altro popolo non cristiano nella visione cristiana diventa il martirio inflitto dall'ingiusto cristiano in quanto negatore di Cristo che, uccidendo la vittima innocente, la santifica, diciamo, perché la assimila simbolicamente al Cristo crocifisso. È la stessa simbologia che noi troviamo nella festa dei santi martiri della liturgia latina, dei santi innocenti, i quali non loquendo, sed moriendo, hanno seguito il Cristo. Questa è una tematica interessante da tenere presente, perché tenete presente che questa tipologia di santità non è strettamente legata alla morte consapevole in odium fidei. Anzi, molto spesso, come nel caso dei santi Boris e Glieb della tradizione russa, questi non vengono uccisi per la loro fede, sono semplicemente uccisi dal fratello usurpatore che toglie loro il diritto al regno. Però, diventando vittima sacrificale e innocente, prendono gli elementi che furono caratteristici del Cristo innocente sacrificato per i peccati degli uomini. E veniamo adesso a tempi più recenti. La scansione più massiccia che caratterizza una percezione più elaborata del martirio in Oriente è la lotta con l'Islam. La comparsa dell'Islam nelle fonti antiche cristiane orientali è un fenomeno molto controverso. Non è necessariamente demonizzato e non è necessariamente glorificato. All'interno di alcuni testi storici, penso alla storia di Sebeos nella cultura armena, c'è una descrizione della vita di Mahometto molto pacata e l'autore è contemporaneo a Mahometto. E' un vescovo probabilmente, un vescovo non sappiamo, pare che sia un vescovo armeno del VII secolo, il quale dice nacque un uomo, un mercante di nome Mahometto, Mahomet, il quale radunò intorno a sé il popolo arabo, eccetera, eccetera. Salvo poi interpretare nello stesso libro il fenomeno islamico dei conquistatori come una delle bestie dell'Apocalisse. Quindi la nascita della religione non è in sé demonizzata. Il fenomeno dell'espansionismo che creò il martirio cristiano, questa sì. Questa viene interpretata come Gog e Magog in termini apocalittici, in termini della profezia di Daniele, eccetera, eccetera. Dunque, il mondo islamico è un mondo identitario arabo all'inizio, che riunisce le tribù arabe e conferisce ad esse la dignità che non avevano. Non per niente la lingua del Corano diventa il modello della lingua letteraria di ogni letteratura araba. Tanto è vero che tra l'arabo letterario e l'arabo parlato si crea sempre più una spartizione, a mano a mano che il tempo passa. Non solo, ma l'islam assorbe anche cristianità arabe, ecco quelle a cui mi riferivo, generalmente non calcedonesi o diciamo pre-calcedonesi, in ogni caso, o quelle che noi chiamavamo monofisite onestoriane. Il regno dei lachmidi, il regno dei rasanidi, vengono completamente assorbite e islamizzate. Però vengono islamizzate anche territori amplissimi che non hanno niente a che fare con il mondo arabo, come quello dell'Africa settentrionale. La zona di Agostino, la zona di Ipona, tutto questo, tranne l'area copta, che è l'unica che si sottrae alla totale islamizzazione. E sarebbe interessante vedere il perché. Con l'avvento dell'islam, cosa succede? Che i cristiani vengono sottoposti ad uno statuto particolare che si chiama statuto della dhimma. In altre parole, cristiani, ebrei e, in alcune eccezioni, zuavostriani, hanno diritto a non essere uccisi e possono essere accolti nella civitas musulmana con uno statuto legale di inferiorità legale rispetto all'islam, legata essenzialmente all'esclusione da certe cariche dello Stato e al pagamento di un forte tributo chiamato Gizia, che è esattamente quello che vediamo oggi proposto nei cosiddetti territori dell'Isis. Non è che si debba considerare questo un fenomeno necessariamente regressivo, perché di fatto lo statuto della dhimma è relativamente tollerante nei testi e porta nel modello ottomano addirittura alla creazione di quella che è chiamata la millet, cioè il nucleo etnico che viene inglobato nella struttura ottomana con il diritto però ad una certa dose di autogestione. Anche i cristiani appartengono a vari millet, mio amico dall'Azerbaijan sa molto meglio di me queste cose, quindi può completare queste cose, con a capo un responsabile che a Costantinopoli si chiamerà Patrick e che nel campo degli ammeni poi dava luogo a causa della sopravvenuta propaganda soprattutto degli ordini mendicanti al distacco della comunità cattolica ammena rispetto alla comunità maggioritaria piuttosto devo dire anche non molto ben disposta verso questa minoranza cattolica e alla creazione di una millet autonoma per gli ammeni cattolici alla quale afferiranno anche altre chiese cattoliche orientali nel frattempo nate. La struttura della millet tutto sommato è una struttura tollerante nel senso che molti degli elementi del diritto vengono sottoposti alla valutazione del Patrick, cioè del capo della comunità, il quale applica ai suoi sudditi il diritto particolare della propria comunità religiosa. Paradossalmente quindi il fenomeno della grande strage del popolo ammeno in Turchia non coincide o non nasce a causa della mentalità dell'impero ottomano perché è islamicamente ispirato e quindi necessariamente violento perché è vero che già con Harun al-Rashid cominciano fenomeni violenti contro la comunità ammena e altre comunità però il fatto della grande strage del Mezierern avviene quando già l'impero ottomano è alla fine e l'ispirazione di questo fenomeno viene da un contesto che è potentemente estraneo alla mentalità ottomana come è quello dei giovani turchi o dell'unione del progresso eccetera eccetera. Quindi identificare la persecuzione con un fattore estrettamente religioso è una grossa confusione. Vediamo però a quello che capita al giorno d'oggi. Finito l'impero ottomano nascono i cosiddetti stati arabi e qui comincia la difficoltà perché l'impero ottomano si è esteso fino all'Albania il primo atto che viene sancito da un trattato internazionale al quale aderivano le potenze europee è quello del cosiddetto scambio dei popoli noi vi mandiamo gli albanesi in Turchia voi ci mandate i greci in Europa fenomeno che era considerato addirittura un fatto illuminato dal punto di vista politico per cui la situazione del ritorno dei greci da Costantinopoli e dalla Turchia in Grecia è un fatto molto diverso da quello che capitò con gli albeni perché è un fatto di conseguenza di una guerra tra due popoli cosa che non avvenne invece nel caso almeno la nascita di questi stati determina un vuoto giuridico perché ci si trova di fronte all'alternativa o si adotta la legge coranica oppure si sceglie una diversa interpretazione o impostazione molti stati sceglieranno questa seconda ipotesi e sono esattamente gli stati che attualmente sono distrutti Siria, Libano per una ragione molto diversa perché lì c'è all'epoca una maggioranza cristiana che oggi non è più maggioranza e si crea quindi una specie di grande mosaico differenziato con un presidente che è di una confessione l'altro di una religione il capo del governo eccetera eccetera ma le altre sostanzialmente dopo essere diventate dei protettorati occidentali scelgono la via della laicità e si danno delle leggi nella gran parte ispirate al codice francese questo vale sia per il Medio Oriente arabo sia per il Maghreb Algeria, Tunisia eccetera quello che noi oggi stiamo combattendo in realtà non è l'epigono di una realtà islamica ma proprio gli stati che volevano differenziarsi dalla possibilità di adottare la legge coranica come determinante per la struttura legislativa dello Stato cosa che invece venne pienamente accolta dai sauditi dal Yemen, Qatar e tutte le zone della penisola arabica che peraltro come vedete non sono in guerra almeno direttamente quindi bisogna stare molto attenti a non fare confusione tra la matrice islamica la legge coranica e i fenomeni diciamo così di intervento occidentale per la restituzione della cosiddetta democrazia perché altrimenti se noi dovessimo prendere come postulato il fatto che gli occidentali sono intervenuti dove la legge coranica era legge di Stato ed opprimeva i cristiani la prima a saltare sarebbe stata l'Arabia Saudita che però essendo alleata degli americani non è mai saltata queste sfumature vanno ben capite perché altrimenti il rischio è forte di una grossa adesso abbiamo tutti questi migranti alle porte quindi c'è tutto sto panico dappertutto ma il calderone della confusione legge islamica legge coranica musulmani cristiani non cristiani è in realtà usato in maniera molto grossolana e quasi sempre in maniera populista invece si crea e questo sì in questa realtà una struttura centralizzata in queste realtà che hanno adottato i codici o almeno si sono ispirati ai codici occidentali una realtà centralizzata di tipo laico ma identica nell'impostazione gerarchica ad una socialità centralizzata di tipo islamico la struttura dittatoriale chiamiamola così come noi l'abbiamo definita dell'Iraq o della Siria non è diversa dalla struttura dittatoriale dell'Arabia Saudita perché non è che voglio giustificarle ma perché viene considerato questo l'unico modo per superare la struttura clanica che essendo eternamente minoritaria e conflittuale l'una con l'altra non consentirebbe mai la creazione di una istituzione statuale che sia superiore alla tribù stessa questo non è un fenomeno solo islamico perché lo stesso fenomeno tribale in forma diversa lo troviamo anche in ambito cristiano si crea questa centralizzazione per tenere a bada l'eterno conflitto dei clan questo naturalmente totalmente sconosciuto a chi è interessato unicamente a cercare nuovi mercati e quindi a prepararsi predisporre un'area geopolitica di dipendenza per poter assorbire i mercati soprattutto quello del petrolio la fantasia e anche l'ignoranza o meglio la mancanza di cultura sono la causa per la quale non si sa non si pensa prima cosa succederà a una società clanica quando si toglierà il capo il capo dello stato ed è esattamente quello di cui siamo testimoni in questi tempi nelle società dopo l'intervento occidentale violento scoppia assolutamente innanzitutto la prima grossa divisione quella tra sunniti e sceiti dentro lo stesso mondo islamico scoppiano fenomeni di nazionalità diversa come quello tra arabi turchi e kurdi scoppiano fenomeni di contrapposizione tra clan anche della stessa appartenenza religiosa perché a nessuno era venuto in mente di dire ma al posto di questo chi ci mettiamo mentre la stessa struttura ripeto di carattere dittatoriale non viene toccata nei paesi fortemente fondamentalisti islamici che hanno però fatto la scelta avendo tanto petrolio di dare la mano a chi i bombardamenti li ha organizzati dunque dobbiamo dire chiaramente un fatto adesso noi siamo invasi invasi insomma dove sono io in Ucraina i profughi sono 3 milioni e mezzo e sono i profughi interni non credo che in Italia ci siano 3 milioni e mezzo dei profughi quindi il fenomeno dei profughi non è un fenomeno che nasce semplicemente perché altri da fuori arrivano ma l'elemento fondamentale che va sottolineato è proprio questo cioè siamo invasi dei profughi e quindi la percezione è quella di dire ci dobbiamo difendere e in parte è vero non possiamo negare che un impatto massiccio di culture profondamente diverse senza preparazione può creare un fenomeno destabilizzante è inutile che questo sociologicamente è evidente il problema è perché siamo arrivati a questo punto perché la cosa che è curiosa in qualche misura grottesca che ci colpisce è che noi veniamo ammazzati con le stesse armi che noi abbiamo venduto loro che hanno fatto un enorme giro perché le armi non hanno passaporto quindi se sono state vendute le armi al Qatar il Qatar può benissimo venderle al proprio vicino il proprio vicino abbiamo venduto le armi agli afghani quando si trattava di combattere l'unione sovietica che all'epoca aveva un regime fantoccio che la sosteneva nell'Afghanistan ma quelle armi finite nelle mani dei talebani che erano alleati nostri sono poi finite con l'essere usato contro quelli che le avevano vendute e questo meccanismo se voi osservate è costante costante cioè la miopia occidentale ha creato la fame di materie prime al punto da imporre due cose la cosiddetta democrazia con le armi che è un po' uno simoro e la seconda cosa una obbedienza occidentale legata ad una precisa identità nazionale quando parlo di identità nazionale non parlo di popolo parlo di territorio siamo noi che abbiamo preso una carta geografica un righello e abbiamo deciso che qui finisce l'Iraq e comincia il Kuwait ma la geografia umana non corrisponde affatto a questo non corrisponde affatto in quasi tutto il mondo perché è un elemento che nasce in occidente soprattutto a partire dalla rivoluzione francese l'identità tra stato e nazione ma il fatto di volerlo imporre al di fuori dei confini della cultura europea determina una confusione totale perché la maggior parte di questi clan sono nomadi si sono sempre spostati nessuno degli armeni potrebbe immaginare che l'attuale Turchia è Armenia è chiaro che ci sono state tribù turche tribù armene tribù caldee sire di vario genere che convivevano nello stesso spazio e che noi poi abbiamo tagliato dentro un confine chiamato con il nome di uno stato lo stesso vale per il caucaso perché noi ci troviamo in un'eterna lotta di confini nel caucaso perché non c'erano confini perché il patriarca georgiano un giorno mi ha detto mi ricordo quando io ero bambino lui abitava nelle zone delle montagne quando venivano i ceceni a rubarci le pecore e infatti uno dei grandi autori della letteratura georgiana Vaja Pshavella descrive continuamente la tragedia di questi popoli che si incontrano e si scontrano essendo distrutti dalle stesse leggi che si sono dati quella dell'ospitalità nei confronti della legge della vendetta eccetera quindi in una mobilità le tribù slave sono la stessa cosa siamo tutti disperati nel tentativo di creare adesso una cultura slava per ogni nazione quando in realtà si tratta di un calderone molto più complicato e molto più articolato che non aveva interesse a chiamarsi col nome del territorio su cui viveva ma siccome adesso gli ucraini sono contro i russi i russi contro gli ucraini gli abchasi contro allora ognuno si crea una propria cultura o meglio come dire gigantizza le differenze le peculiarità culturali che non sono in realtà peculiarità perché se noi guardiamo fenomeni trasversali della società come quelli del caucaso noi li troviamo struttura della famiglia concezione della rapporto madre figlio troviamo nella stessa misura in giorgia in armenia in azerbaijan paesi e anche in cecenia paesi uniti da religioni diverse ma mantenuti da una specie di zoccolo comune di una cultura che non si definiva in base alla religione e neanche in base al confine statale concludo tutto questo sfocia in quello che oggi vediamo essere la grande catastrofe di questa distruzione nella Siria nell'Iraq nella Libia in parte in Egitto perché in Egitto succede poi un altro fenomeno come in Palestina vale a dire noi imponiamo la democrazia con un metodo democratico facciamo le elezioni poi ci accorgiamo che sono stati eletti i fondamentalisti e li buttiamo giù questo succede sia nella striscia di Gaza come in Egitto con i fratelli musulmani leggeteli liberamente però quelli che diciamo noi perché se no addio democrazia il fatto Isis è una mostruosità che vuol dire tutto e niente qui i nostri fratelli il padre rettore che viene proprio da una delle zone più martoriate della Siria la zona di Derzor dove tra l'altro finivano centinaia di migliaia di armeni portati dalla deportazione fino a morire in questa specie di cave del deserto bruciati vivi o distenti interessante con i kurdi che facevano da mediatori cioè avevano in appalto la strage salvo tenersi le ricchezze dei morti adesso i kurdi sono invece i difensori dell'autonomia contro l'Isis sono scherzi della storia che per chi la conosce induce sempre ad una certa cautela nell'identificare i giochi di parte l'Isis è un fenomeno hollywoodiano l'Isis non è non è una realtà endemica di quei territori l'Isis è la degenerazione di questo di questa confusione incredibile che noi abbiamo creato in quelle terre non è guardiamolo nella simbologia espressiva non ce li fanno vedere questi filmati nella gran parte perché sono efferati ma il montaggio l'impostazione la musica sono occidentali non è un fenomeno naturalmente orientale l'Isis l'Isis è un mostro genetico che si esprime con una grande raffinatezza mostruosa una grande raffinatezza nel modo di comunicare sa usare alla perfezione i metodi di comunicazione di massa non è uno stato ma vuole diventarlo il califato non è essenzialmente uno stato il califato è la legittima discendenza che si inserisce nella continuità ortodossa con l'Islam delle origini che questo ha sempre una natura anche territoriale perché perché la territorialità la terra costituisce un elemento inscindibile nei popoli d'Oriente ebraico compreso basta vedere tutto il significato di questa Eretz Israel ma in tutte in tutte le culture orientali tanto più nella cultura islamica dove l'inizio solenne della religione si ha in una vera e propria città teocratica quando Mohammed passa a Medina e lì Medina Tannabi la città la città del profeta e lì da Dio riceve secondo la tradizione islamica le leggi per governare quella città un po' come nell'Antico Testamento capita con Levitico con Deuteronomio eccetera eccetera cioè con quelle leggi che sono destinate a creare l'ordine dentro la società e che negli autori cristiani coincidono con la traduzione nella propria lingua del Vangelo come nuova norma per la conduzione della vita di questo popolo quindi che ci sia nella mentalità islamica un riferimento prototipico alla città governata dal profeta è evidente questo però ha enormi sfumature se si pensa alla variante sciita che è una variante minoritaria perseguitata e scacciata dall'islam maggioritario perché si riconosce in una diversa non solo in una diversa teologia ma anche in una diversa continuità rispetto alla discendenza del profeta la tragedia di tutto questo è che in questo mondo che come vedete è complicatissimo estremamente antico arcaico per questo anche molto conservativo per questo noi abbiamo ancora fenomeni religiosi così vicine alle origini del cristianesimo ma non solo comunità come quella mandea sono comunità di carattere giovannitico gnostico che sono durate fino ad oggi in questo grande calderone dove sia pur a prezzo di sangue gli equilibri vengono mantenuti sulla base di una cultura omogenea anche se contrapposta ripeto in certi momenti si sovrappone questo modello occidentale che improvvisamente arriva e determina la necessità di insegnare o di imporre con la violenza quello che è è lo schema che deve essere lo schema della liberazione democratica che tutti si sia capito trattarsi di un grosso commercio è un dato acquisito perché il dittatore che ti è amico va benissimo il dittatore che ti è nemico va distrutto questo non coincide esattamente con i dettami della democrazia lo stesso dicasi per quel che riguarda la lotta che adesso c'è tra occidente e russia allora bisogna farsi i dispetti cioè bisogna riuscire a vedere come strategicamente io ti posso condizionare in modo da eliminare la possibilità che tu possa mettere le mani in casa mia e io a mia volta metterò le mie basi militari in maniera tale da farti capire che sono sotto il tuo naso e siccome sei debole ti faccio presente che la prima che fai ti salto in casa noi stiamo pagando oggi il dissesto ecologico che abbiamo creato con i nostri cosiddetti interventi civilizzatori che in realtà sono solo interventi di mercato molto spesso non abbiamo neanche ricavato il mercato poi questo è il problema perché l'isis da tanto fastidio perché in parte si è preso quello che pensavamo che fosse nostro diritto dopo quello che avevamo combattuto in quei paesi adesso lo vendono loro il petrolio e si autofinanziano e bisogna cercare uno stato canaglia che gli acquisti il petrolio e magari noi poi paghiamo lo stato canaglia perché non mandi i profughi capite quale contorsione di carattere mentale ma poi purtroppo di carattere umano di geografia umana di antropologia si è venuto a creare a partire da questo nucleo della civiltà che è il Medio Oriente e nella quale i cristiani sono alcuni tra le vittime perché diciamocelo chiaramente è difficile poter dire che i cristiani sono le sole vittime di questa violenza si ammazzano tra di loro anche i musulmani con una facilità più unica che rara certo noi come diceva giustamente il padre e così concludo rischiamo di perdere in questo sistema ecologico particolarmente protetto quelle che sono le radici che più direttamente ci collegano con le fonti stesse del nostro cristianesimo cioè con quelle fonti semitiche che in realtà pian piano scompaiono nel restante mondo essendo assorbite dalla cultura greca greco-romana che confluisce poi nella cultura occidentale la testimonianza di quello che noi invece era fontale noi lo troviamo in queste antiche poco studiate ignorate e per questo anche massacrate liberamente perché non interessano nessuno perché quando è stato pensato alla divisione dell'Iraq si è pensato ad una divisione confessionale da parte occidentale e non si è tenuto presente la componente cristiana che non è etnica perché è plurietnica nell'Oriente cristiano l'Arabo sciita l'Arabo sunnita ma non il cristiano arabo ripeto il cristiano è armeno è siro orientale è siro occidentale il cristiano è maronita sono tutte quindi è impossibile identificare un'area o una etnia alla quale puoi conferire un territorio il risultato non consideriamoli andiamo verso la spartizione confessionale in senso islamico magari garantiamo qualcosa ai curdi per tenerli buoni ma i cristiani sono totalmente irrilevanti tanto più che sono occidentalizzati nel senso che sono più aperti in occidente in genere più benestanti quindi sarangino vengono vengono pure nelle nostre terre vengono a ricongiungersi le loro famiglie che già vivono in america vivono in canada in australia eccetera lucidamente e direi mostruosamente ma questo è il disegno si potrà dire volgare si potrà dire bestiale ma questo è il disegno che sta alla base del trambusto per non dire nella catastrofe di cui siamo testimoni oggi in quel Medio Oriente nel quale appunto continua a scorrere il sangue anche dei cristiani ringraziamo Monsignor Guggerotti proprio per la lucidità con cui ci ha condotto in questa lettura di fenomeni dei quali noi siamo solo spettatori attraverso mediazioni molto spesso come dire che inducono pensieri diversi ecco la lucidità e la verità sono il primo confronto con il quale noi dobbiamo vivere l'incontro ora prima delle domande che saranno necessariamente brevi perché la sua eccellenza ha un impegno molto importante sentiamo la voce di una comunità cristiana di una comunità la comunità armena sentiamo il canto con il quale ecco nei secoli hanno elevato la loro voce al Signore sono qui presenti alcuni dal Rettore alcuni studenti una comunità che è stata sacrificata il Papa ha parlato di genocidio di questo popolo ma nonostante questo hanno ancora una voce la vogliamo ascoltare buonasera prima di cantare volevo presentare questo canto che è scritto da un sacerdote armeno santo si chiama Gomidas questo santo è sopravvissuto durante il genocidio armeno negli anni 1915 e allora alcuni armeni che sono sopravvissuti con lui dicono che aveva cantato questo inno mentre gli armeni stavano mentre i turchi massacravano gli armeni davanti ai suoi occhi e questo canto si chiama Signore Pietà si dice Signore Pietà Signore Pietà Signore Pietà vieni ad aiutarci e stare accanto a noi oh Santo Trinità dona a noi la pace alla nostra Chiesa dona ai nostri defunti la pace Signore Cristo Salvatore Signore Pietà scusate un particolare questo Gomidas poi si rifugierà a Parigi e perderà la ragione diventerà pazzo e morirà pazzo dopo la fuga dalla Turchia la torsia la pace Grazie a tutti. 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 E speriamo per la Siria anche che oltrepassa questi cinque anni di Golgotha sarà vicina la risurrezione. Grazie a tutti.